Sì qui user, benvenuti in questo primo video su questo gioco per telefono, War Dolph Kong World 3, cioè 3. In questo video porterò un pochino tipo la carriera militare, se volete potrò portare anche... Cioè è un gioco di guerra mondiale, mettiamola, un gioco così per telefono che mi è venuto in mente di portare. Poi se volete posso portare anche un po' il cazzeggio. C'è un'azione contro un'azione, altre cagate, se volete posso portare il cazzeggio. Intanto facciamo queste missioni iniziali. Fatto. Ok, non si è ammessi male per ora, allora ok. Va bene. Poi con quel tasto la posso soltare. Quindi... Quindi... Ok. Ora potrei usare anche quello così, no? Ecco ha vinto. La prima faccio, va bene. Ho tolto la musica perché non vuole avere il copyright che mi... Ah... Non volevo avere il copyright, va bene. Ok. Ho capito. Per la benzina. Ok. 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 Oooo. Ok. Quindi dovrei con paymenti una cosa sulla sua città. Un poiché paroli. Ok. 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 ok quasi conquistato vinto ok ora manca la terza capito c'è le cose nucleari posso fare qua posso lanciare un missile nucleare tipo qua si muove tipo la Nord Corea come se fosse la Nord Corea va bene qui abbiamo un motto di soldi, argento e benzina è che ora me la posso giocare da solo ok ragazzi vorrei portare tutti in una sola volta perché credo che sia credo che non ci sia bisogno di tagli credo qua non so se è vero ma credo che di tagli non ce ne sia bisogno è che non ci sia Oh merda, ho sbagliato Ho sbagliato perché il portario lo doveva fare andare qui, là Quindi, cazzo Domanda, ma io posso andare qua? Da, giù, 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 arrivo, giù, giù Quindi, ho messo il lozzo Lì, non glielo neva nessuno Ci arrivo pure, quindi C'è lui che conosci, potrei aver vinto, sì Allora Vinto, va bene Ragazzi, comunque questo Ora, spero, il video è finito qua Spero che vi sia piaciuto Lasciate like e iscrivetevi Bella Comunque ragazzi, era questo il cazzo gioco che vi ho mostrato Ad esempio, io sto prendendo l'Italia Posso farmi una storia mia nel gioco Così, posso farmi una storia mia Posso prendere una nazione normale A parte che, a meno che non è neutrale Fare la prima guerra, la seconda guerra E le guerre aggiunte così Questo Vabbè, io spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like e iscrivetevi via Bella Vabbè